La ragazza che abbiamo intervistato, che mi colpisce quando dice spero che l'Unione Europea ci possa aiutare a ricostruire quello che stiamo perdendo. Sono immagini davvero drammatiche. È difficile commentare per l'assurdità della guerra, per l'atrocità di una guerra scatenata contro un popolo inerme. Fino a pochi giorni prima dell'invasione, io vedevo le immagini di Kiev, delle città, tutto si svolgeva tranquillamente, perché l'assurdità di quest'operazione militare largamente pianificata non ha una razionale dal punto di vista del conflitto, anche delle difficoltà negoziali che si trascinano dal 2014. L'Europa è la casa di tutti quelli che stanno scappando dall'Ucraina. Noi attiveremo questa direttiva per la prima volta di protezione umanitaria, quindi tutti i profughi, come ha detto anche ieri all'unanimità il Parlamento italiano, saranno ben accetti, ben ospitati e avranno nei paesi europei, come l'Italia, a casa loro, per essere protetti da questa follia. Quindi su questo, sia i soldi della cooperazione che già il governo ha stanziato, sia tutti gli interventi che faremo anche in solidarietà ai paesi che ovviamente, Polonia, Moldavia e Romania, stanno ricevendo i numeri più alti di profughi, tutto sarà predisposto. Però vorrei dire che dinanzi a quelle immagini, perché noi ovviamente siamo ogni giorno anche pronti a un negoziato, a riaprire il dialogo, a sostenere anche il dialogo che c'è tra le parti, c'è stato una prima incontro, ce ne sarà un altro, non condannare nella maniera più dura, come fa anche l'opinione pubblica italiana, come fate anche voi con un servizio eccellente, l'assurdità di questo attacco unilaterale è qualcosa che ci deve muovere, non solo in termini di solidarietà, ma anche di azione concreta per fermare questa atrocità. E adesso arriviamo alle azioni concrete, però prima Michela...